Io passerei ora la parola a Mauro Volpiano. Grazie, grazie a te per questa bella introduzione che mi dà il destro, proprio di aggiungere alcune cose. Condivido molto, anche quanto sosteneva il Presidente prima, del fatto che queste operazioni hanno una ricaduta sulla valorizzazione del territorio. Cercherò in qualche modo, anche se molto brevemente, poi di mostrarvi qualche immagine in questo senso. Innanzitutto, insomma, un ringraziamento per l'invito perché è un po' un coronamento di questo lavoro che è stato lungo e complesso, un lavoro che si avvia, lo dico per i presenti, per collocare la storia di questa acquisizione nel 2005 con una prima acquisizione dei disegni di Giuseppe, cioè il padre, e poi nel 2006 di Bartolomeo. I due fondi erano in qualche modo disordinatamente, per delle vicende che capitano molto sovente agli archivi conservati, però avevano avuto una fortuna, insomma, direi per biografia sia personale sia scientifica, gli eredi Gallo in realtà erano ben consci dell'importanza di questi materiali, quindi, come dire, un primo processo di valorizzazione aveva già preso corso, poi nel 2005 però c'è stata questa fondamentale acquisizione da parte della Fondazione per l'Arte della Compagnia, e da lì è stato possibile avviare un processo di riordino che effettivamente è stato complesso, che ha mirato proprio, come la dottoressa Caroli affermava, una ricomposizione dei legami che connettevano le diverse carte, anche dal rapporto complesso tra la mano di Giuseppe e quella del figlio Bartolomeo, che in molti casi aveva completato i cantieri, a volte con un approccio assolutamente mimetico, a volte invece con una verba più autonoma, con delle riflessioni novecentiste, nelle opere degli anni 20 e 30, quindi si trattava di ricollocare scientificamente e anche cronologicamente, perché mancavano completamente periodizzazioni, riconoscimenti delle opere, mancava una biografia degli autori, quindi è stato possibile ricollocare poi nel corso del tempo, schedando i disegni singolarmente poi alcune di queste relazioni, ma anche trovando delle cose interessanti che adesso cercherò brevemente, molto sinteticamente, di raccontarvi. Io credo che da parte mia possa essere interessante, forse raccontarvi qualcosa, diciamo, dei soggetti produttori di questo archivio, chi sono i Gallo? Ecco, allora se forse, chiederei forse a Francesca, se riesce a far passare il mio PowerPoint. Dunque, allora, sono i protagonisti sostanzialmente del più attivo studio di architettura impegnata nel fronte dell'edilizia religiosa nel Piemonte tra 800 e 900. Sono oltre 200 cantieri, circa 250 cantieri che li vedono impegnati. Quando Giuseppe muore nel 1927, il necrologio che l'architettura italiana di Melis e Betta gli Dedica, tra l'altro a fianco di quello di Gino Coppedè, dice sostanzialmente, è mancato Giuseppe Gallo, non c'è parroco del Piemonte che non abbia visto sui ponteggi delle proprie chiese la sagoma familiare di Giuseppe Gallo, intento alla realizzazione di un ampliamento, di una trasformazione, di una nuova chiesa. Quindi è un personaggio assolutamente pervasivo, l'archivio è anche molto corposo, perché oggi ci rimangono, nonostante delle dispersioni che ovviamente sono avvenute, ma circa oltre 4.700 tavole, più di 1.500 lettere, molte centinaia di fotografie dagli anni 90 dell'800 sino ai decenni successivi, molte realizzate da Bartolomeo, moltissima documentazione di cantiere, quindi non soltanto un fondo iconografico ma un fondo anche fatto di documentazione descrittiva, che io credo in qualche modo costituisce una rarità rispetto al contesto dei fondi di architettura piemontese del XIX secolo, io penso a Carlo Ceppi, alla Galleria d'Arte Moderna, penso a Angelo Reisan, penso a altri contesti in cui noi abbiamo il dato iconografico ma ci manca invece quello che normalmente per un architetto, per un ingegnere è fondamentale altrettanto quanto il progetto disegnato, che è la parte invece documentaria. E quindi l'archivio Gallo consente in qualche modo anche di ricostruire una sorta di storia economica del cantiere edilizio tra l'800 e l'900 ma anche una storia sociale, delle relazioni con i committenti, delle relazioni con questo corposo, questa corposa equip di artigiani con cui Gallo, molto affiatata, con cui Gallo lavora, che sono gli stessi che poi noi troviamo nelle esposizioni premiate, nelle esposizioni tardocentesche torinesi e che lavorano anche con molti altri protagonisti di questi anni. Allora, se puoi tornare soltanto un istante indietro? Ecco, questo è molto divertente ed è uno degli album, dei calcoli di Giuseppe Gallo, ve lo mostro perché è una chicca, però mi serve per alludere alla formazione di Giuseppe, perché qui è un elemento interessante. Giuseppe è un ingegnere, si laurea presso la regia scuola di applicazione nel 1882, è un ingegnere civile, non può che essere un ingegnere civile, perché entra con l'ordinamento della scuola del 1876, che è così costituita, è una scuola di applicazione, quindi una scuola superiore che dura tre anni, ma ha un biennio preparatorio, propedeutico, di natura matematico-scientifica, che si svolge obbligatoriamente alla regia università, quindi ancora una formazione duplice che si svolge sul fronte della scuola di applicazione, poi diventerà il politecnico, ma anche su quella universitaria. In questa scuola, in questo biennio, c'è una preparazione nelle materie della meccanica e della matematica, ma non mancano, per esempio, vi leggo alcune delle materie, l'ornato architettonico, l'architettura, la geometria descrittiva, la geometria proiettiva. Mentre invece, poi negli anni della scuola di applicazione, c'è una schiera di materie che farbbe impallidire a qualsiasi studente dell'attuale politecnico, che va dalla meccanica razionale alla geodesia teoretica, alla statica grafica, alla chimica, alla mineralogia e geologia applicata in materiali da costruzione, se poi Francesca andare avanti. E se potessimo ingrandire questo disegno, un disegno degli altari di Giuseppe, vedremmo che tutta quella minuta descrizione è una descrizione di tutte le tipologie di marmi che devono essere utilizzate, preziosi, che devono essere utilizzate per la realizzazione di quest'altare. Ecco, che allora mi sembra suggestiva questo richiamo a una formazione che al tempo stesso, una formazione che si fonda su una tradizione, per certi versi, accademica, delle belle arti, che quindi prende in considerazione l'ornato e le arti del disegno, ma al tempo stesso ha anche il gusto tutto ottocentesco, molto positivista, invece, che poi anche quello delle esposizioni tardo-ottocentesche per le collezioni mineralogiche, per esempio, invece il gusto per la messa in opera dei materiali, per lo studio statico, strutturale, scientifico, infatti questa formazione degli ingegneri che hanno questo impianto dato da questo regolamento nel 1868 prevede macchine agricole, macchine termiche, prevede costruzioni strade ordinarie, strade ferrate, gallerie, quindi Gallo poi si specializzerà nell'edilizia religiosa, ma farà anche una piccola stazione ferroviaria, farà alcune architetture civili. Direi che forse è veramente lo specchio di un bravo studente della scuola in questo scorcio di Torino di fino a 800 all'indomani della riforma Casati, della formazione universitaria. Possiamo andare avanti. Quindi è una formazione che sostanzialmente va dallo studio delle fondazioni, che consente di maneggiare lo studio delle fondazioni, gli aspetti strutturali delle costruzioni, sono anche gli anni in cui Torino è un grande centro italiano della scienza delle costruzioni e formazione, personaggi come Curioni, per esempio, che lasciano una traccia indelebile, poi proprio in una disciplina che si sta mettendo a punto in quegli anni in Italia e all'estero, quindi una formazione che va dalla capacità di pensare, immaginare la pianta, la sezione, la struttura, sino però al ricciolo dell'ornato, che può essere quello in marmi raffinatissimi per la grande chiesa urbana, o anche invece la carta pesta, il papier-mâché, la decorazione invece, un trompe l'oeil, invece, di architetture più modeste, che però riscuotono sempre un grande successo nei suoi committenti. Possiamo andare avanti. Le tavole, ne vedrete alcune poi in esposizione, sono tavole che di norma hanno veramente una grandissima qualità grafica, perché sono tavole di poche, non ho segnato, come avrei dovuto forse opportunamente fare, non ho messo una scala grafica per farvi cogliere le dimensioni dei disegni, però immaginate che queste sono tavole all'incirca di 30, in questo caso 30x50 cm, altre tavole sono 50x70 cm, andiamo pure avanti, questo è un particolare della precedente, tutto a china, squadra, e quindi sostanzialmente un disegno geometrico, ma che dialetticamente al tempo stesso è un disegno d'ornato, andiamo avanti, questo è un disegno di circa 20x40 cm della chiesa di San Massimo di Torino, potete capire, quasi in miniato, ecco, questo invece è uno dei suoi disegni a matita, vedete che, come dire, il contesto culturale è quello di un architetto del tardo eclettismo storicista, e quindi che uscilla tra il gusto neomedievalista e riscoperto del barocco, che è molto spesso un barocco autoctono, che è una cosa interessante, perché il barocco piemontese, alla fine dell'Ottocento, non ha ancora recuperato, come dire, quella fortuna critica che poi avrà con Brinkmann, soprattutto a partire dagli anni 30 del Novecento, è un momento in cui però alcuni architetti, tra cui Gallo, cominciano a dare un'influsione regionalista al proprio lavoro di architetti. E quindi, con alcune rare eccezioni, il lavoro di Gallo è un lavoro molto attento a queste radici piemontesi, soprattutto di pieno Settecento, non tanto l'anomalia Guarini, quanto piuttosto, diciamo, da Juvarra a Francesco Gallo, ma con dei riferimenti che vengono molto spesso, con grande sensibilità, questo invece è un disegno a matita, trasposti sia in realizzazione snovo, sia invece in un rapporto dialettico molto complesso con l'esistente. In questi 250 cantieri sono in gran parte cantieri di intervento sull'esistente, di ampliamento, di trasformazione dell'architettura esistente, alcuni dei quali anche in vecchie ricostruzioni storiografiche del secondo dopoguerra, talvolta misconosciuti e, come dire, descritti come opere seicentesche, anche da grandi storici dell'architettura e dell'arte piemontesi, ma questo non va di sdoro tanto dello studioso, quanto piuttosto della qualità e delle capacità di questo gruppo di artigiani che effettivamente, lavorando con Gallo, a volte opera con una mimese assoluta dell'esistente. E c'è un dialogo ravvicinato con Vittone, con Juvarra, in molti casi, in cui l'architettura di Gallo e dei Gallo si specchia nell'architettura del Seicento. Vi faccio un solo esempio di questo tardissima, come dire, attenzione alla dialettica con mimetica, con l'architettura barocca e nella ex galleria di Diana, oggi non la chiamiamo più così, la galleria grande della Veneria, nella galleria del grande della Veneria, tutto l'intervento realizzato nel 1961 sotto la direzione del soprintendente Chierici è realizzato da Bartolomeo Gallo. Ci sono i disegni, tra l'altro, in soprintendenza, non firmati, quindi non riconosciuti, diciamo, esplicitamente, ma sono certamente di Bartolomeo e i recenti restauri hanno confermato proprio questa abilità, questa capacità di intervenire sul dato di fatto. Allora, l'archivio in questo senso è preziosissimo perché ci dà moltissimi di questi elementi. Come dire, non è una storia autoreferenziale, quella che l'archivio ci propone, ma è una storia, invece, assolutamente diramata e complessa. Andiamo pure avanti. Ecco, e qui vedete altro aspetto di un ingegnere politecnico tardottocentesco, questo passare di scala, come vi dicevo, dalla fondazione sino al progetto architettonico, sino, vedete, alla scala al 10 in cui, per esempio, viene disegnata la croce in ferro battuto, la croce sommitale della facciata, tutte opere realizzate, tra l'altro, con autografe. Una delle cose straordinarie è il Gallo che lavorerà quasi sempre senza assistenti. Tutti i disegni sono sostanzialmente suoi. Quindi è un corpus di disegni realizzato, tranne poi, ovviamente, negli ultimi anni 20, nella seconda parte degli anni 20, lui poi muore nel 27, quando invece gli subenterrà il figlio Bartolomeo. Andiamo pure avanti. Ecco, qui scendiamo invece al vero, sto passando progressivamente di scala, e questi sono rilevi al vero, tra l'altro, con una composizione sempre molto gradevole, che esprime anche certamente un gusto per l'impaginazione del dato architettonico e non soltanto. Allora, se immaginiamo che questa qualità media, tutto sommato, elevata, Gallo la raggiunge in contemporanea su decine di diversi cantieri, direi che si tratta di un qualcosa di interessante. Prego. Ancora, prego. Ecco, al tempo stesso, in questa sorta di opera d'arte totale, che è il lavoro di Gallo, che disegna tutto, fino al particolare più minuto, c'è anche, per esempio, il disegno delle vetrate. Cioè lui ha un rapporto molto stringente con questi artigiani, con cui a volte anche litiga, perché richiede sempre che venga tutto perfettamente eseguito. Porto l'esempio delle vetrate, perché per le vetrate l'archivio c'è, come dire, c'è delle indicazioni molto preziose, perché lui prima si rivolge a dei fornitori locali per realizzarle, ma poi, andiamo pure avanti, incrocia a un certo punto sulla sua strada Heinrich Oitman, e l'archivio ci restituisce la testimonianza di questo rapporto. Chi era Oitman? Andiamo pure avanti. Oitman è in realtà un personaggio molto interessante, è uno dei maggiori eruditi studiosi tedeschi dell'Ottocento, uno dei primissimi studiosi di vetrate antiche, è medico, figlio di un medico, e queste competenze chimiche sono quelle che danno alla famiglia poi un interesse specifico proprio per gli aspetti anche costruttivi e realizzativi delle vetrate, tanto che gli Oitman aprono un Verstete, un laboratorio all'Inni di vetrate artistiche e queste vetrate artistiche, andiamo pure avanti, di Oitman, stanno per esempio nella chiesa di Rapids, Michigan che vedete alla vostra sinistra, alcune sono musealizzate per esempio al Historical Museum di Detroit e questo lo pongo soltanto come un esempio di quanto è prezioso dell'archivio, perché questi dati di conoscenza che io, come dire, credo stiano appena adesso entrando nel radar anche delle nostre competenze, forse anche di un'ipotesi di tutela, però devo dire che nulla sapevamo e nulla avremmo mai saputo senza il supporto preziosissimo documentario dell'archivio, per quello che dicevo, vi porto qualche esempio di come effettivamente un lavoro apparentemente così lontano possa in effetti invece avere, vedete che ad esempio a Detroit le vetrate di Oitman andiamo pure avanti, andiamo, questa è Monforte d'Alba, andiamo pure avanti e vedete un particolare della zona apsidale, una delle vetrate di Oitman e ci sono anche le cronache di questi perigliosi montaggi, di queste vetrate che giungono dall'Arenania, ecco, io credo che oggi come dire, le guardiamo molto distrattamente e forse a volte è ovvio che non vogliamo trasformare Gallo in un campione della storia progressiva dell'architettura, però certamente le testimonianze di questa natura io credo che possano essere molto interessanti per cominciare delle traiettorie di ricerca che ancora non conosciamo, prego, cerco di chiudere molto rapidamente, quindi un'attenzione nel confronto con l'architettura piemontese che io ho messo in alto adesso un piccolo particolare, forse riconoscerete di San Pietro a Cherasco per dire l'uso dei bacili smaltati come suggestione per tante sue architetture di matrice anche molto diverse statisticamente, andiamo pure avanti, ancora grazie, passiamo pure velocemente, l'uso del lito cemento, qui anche già materiali che noi colleghiamo normalmente più all'Art Nouveau a un momento successivo ma che invece già negli anni 80-90 dell'800 sono ampiamente utilizzati quindi non si tratta molto spesso di marmi ma si tratta già di materiali industriali preparati a piedopera che quindi implicano un processo di industrializzazione abbastanza complesso andiamo pure avanti andiamo pure avanti Geroso Nazareno a Torino andiamo pure avanti ancora direi passo molto velocemente perché non voglio rubare troppo tempo ecco ed è sempre un progetto integrato che comprende tutto dalla pavimentazione per la quale Gallo dà sempre delle indicazioni molto precise quindi il progetto è un progetto che l'archivio ricostruisce con un progetto complessivo totale questo cosa vuol dire in termini ad esempio di tutela che forse queste prima di smontare un arredo prima di smontare una pavimentazione in graniglia che di per sé sembra poca cosa forse una riflessione andrebbe fatta anche rispetto a una consultazione di questo fondo se vogliamo almeno a livello diciamo di campioni conservare qualcosa di questa architettura che ancora oggi non dimentichiamo lo vengono quotidianamente senza troppi problemi smontate andiamo pure avanti basta ancora alcuni degli interni più integri e il progetto andiamo pure avanti vedete fermiamoci un secondo qui vedete che è un progetto che prende in considerazione tutti gli aspetti e l'archivio consente anche dei riscontri con gli arredi ancora in sito in questo caso per esempio siamo a San Bernardino nella sacristia della chiesa di San Bernardino da Siena in Borgo San Paolo a Torino andiamo pure avanti anche i ferri battuti tutto è suo andiamo pure avanti poi c'è e mi avvio a concludere il rapporto anche molto divertente col barocco piemontese e questo lo vedremo poi in mostra è un copialettere scrive al parroco della parrocchiale di Monastroli di Savigliano discutendo il modo di fare una volta vedete che una costolatura alla Guarini o meglio alla Vittone probabilmente andiamo pure avanti Casterrosso a Chivasso con come dire tra Juvarra e Francesco Gallo insomma legata a molte aspetti a Settecento piemontese andiamo pure avanti sullo stradale di Moncaglieri a Torino andiamo pure avanti e questo è invece come viene realizzata la volta nella parrocchiale di Monastroli di Savigliano vedete quei pennacchi traforati che sono una citazione molto esplicita andiamo pure avanti di un modello da Vittone quindi l'idea della luce che filtra dall'alto zenitalmente alleggerendo i pennacchi della volta e quindi come dire in questo gioco proprio molto esplicito di citazione andiamo pure ancora ecco poi questa complessità ad esempio questo gusto per le volte è molto complesso lui lo mette in opera anche non soltanto quando usa un linguaggio neomarocco ma anche quando si avvicina invece a degli stilemi di natura più legati più vicini al Medioevo andiamo pure avanti e ancora dei bei disegni andiamo pure avanti Sant'Alfonso sempre a Torino che cito qui perché è probabilmente la più grande volta in muratura dell'Ottocento piemontese cantiere oggi misconosciuto ma che gli studenti del Politecnico visitano regolarmente mentre in costruzione perché è un esempio il consulente Crescentino Caselli che è allievo di Antonelli ma anche grande amico personale di Gallo e quindi andiamo pure avanti andiamo pure avanti questa invece forse è l'opera più nota che è la chiesa della Santissima Annunziata in via Po a Torino andiamo pure avanti è un inserimento negli anni in cui si apre l'ultimo tratto di via Santo Ottavio siamo a metà degli anni dieci verso la via Po andiamo pure avanti ed è però un'anomalia rispetto a quella invece attenzione all'architettura del Piemonte che Gallo ha sempre dimostrato nei decenni precedenti questa è un'opera relativamente tarda forse un'indicazione molto precisa della curia piemontese perché invece questa è un'opera assolutamente romana come si può vedere dall'immagine successiva il modello principale quello dell'impalcato costitutivo di tutta la facciata è Santa Maria Maggiore quindi un'opera di fuga ed è Alfredo D'Andrade scrive c'è la lettera in archivio va benissimo farla così non rovinerà ma anzi migliorerà la via Po e quindi rimane questa testimonianza di un ormai molto anziano D'Andrade però in questo caso invece l'architettura è veramente ha uno spirito storicista eclettico ma anche assolutamente lontano dal linguaggio locale andiamo pure avanti ecco chiudo dicendo che poi una parte dell'archivio molto consistente quella invece del contributo di Bartolomeo il figlio che inizia con un lavoro di completamento soprattutto tecnico di questi cantieri come l'Annunziata che durano veramente dei decenni questo è un disegno a casellario per il completamento vedete esecutivo della facciata dell'Annunziata andiamo avanti poi si stacca progressivamente invece dalle orme paterne ha un momento più interessante soprattutto negli anni 20-30 in cui la sua architettura anche il suo disegnare ha delle inflessioni come accennavo prima più novecentiste che sono forse il momento più interessante della sua attività andiamo avanti e anche altre cose come la partecipazione alla ricostruzione post bellica torinese questo è il concorso per il cosiddetto grattacielo in piazza Solferino andiamo pure avanti opera non realizzata e poi anche grandi interventi una grande passione per il barocco piemontese che rileverà come in questo caso rilevando la Santa Chiara Abrà di Bernardo Vittone dove molti anni prima aveva lavorato il padre quindi sperando di aver rubato troppo tempo ma ci tenevo a darvi una come dire un senso di questo archivio che è veramente molto diramato e credo tutto sommato unico forse ma questa potrebbe essere una mia ignoranza correggetemi se sbaglio rispetto agli archivi di architettura piemontesi tra 800 e 900 per la corposità e la complessità molto diramata di questi materiali che vanno dagli opuscoli alle fotografie d'epoca ai disegni agli studi perché poi ci sono anche molte altre cose forse qualcosa vedremo poi dopo quando visitiamo quella piccola mostra grazie io avrei terminato grazie grazie grazie